Buon pomeriggio, mercoledì 15 novembre, ben ritrovati con InfoStudio. Apriamo con la cronaca con la notizia di un sequestro per oltre 6 milioni di euro operato dalla Guardia di Finanza nei confronti del lamettino Silvestro Luigi Esposito Criolesi che nel 2012 venne coinvolto nell'operazione Miseria Nobiltà che colpì una organizzazione di trafficanti di droghe che è anche stato condannato definitivamente per ricettazione, detenzione di droga, banca rotta, fraudolenta ed evasione. Il sequestro è stato chiesto dalla procura antimafia di Catanzaro e tra i beni sequestrati ci sono tre aziende, le quote societarie e i complessi, che hanno sede una ad Agliana in provincia di Pistoia, quindi in Toscana, l'altra in Piemonte, ad Arona in provincia di Novara e l'altra ancora a Roma. Poi 17 fabbricati, tutti alla mezzia terme, tre automezzi e diversi conti correnti, ci sono conti bancari ed altri rapporti finanziari. Sabato sarà una giornata un po' movimentata in una zona per la verità periferica, la località Malandrano di Davoli, perché sabato verrà fatta brillare in sicurezza la bomba d'aereo inesplosa del peso di oltre due quintali e di fabbricazione statunitense che risale alla Seconda Guerra Mondiale, che è stata trovata appunto in località Malandrano. La bomba sarà rimossa e trasportata nella zona che è stata individuata per essere fatta brillare ed ha lo scopo di consentire lo svolgimento in tutta sicurezza delle operazioni necessarie. Dalle 8 alle 15 verranno chiuse al traffico pedonale e veicolare alcuni tratti delle strade provinciali 128 e 130. Nasce dalla fusione di tre parole cultura, turismo e media, quindi culture media è la parola che è stata creata, è l'ultima nata in casa Lega delle Cooperative ed è appunto una sezione che si deve occupare di questo speciale e interculturale discorso di sviluppo, perché alla cultura dobbiamo naturalmente regare ogni ipotesi di sviluppo futuro, al di là di ogni progresso che possa essere fatto, investimento che possa essere attratto, programma politico che possa essere stilato, ma dalla cultura un paese come il nostro non può prescindere e anche la Calabria, la quale è l'ultima tra le leghe, cioè la Lega delle Cooperative della Calabria, è l'ultima ad essersi dotata, diciamo così, ad aver istituito culture media, c'è stata a Catanzaro l'assemblea istitutiva, però questo, come spiega la Presidente Angela Robbe, non è del tutto uno svantaggio. Si chiama culture media e fonde tre parole che sono altrettanti settori fondamentali per il nostro paese, ovvero cultura, turismo e comunicazione. Culture media è l'ultima costola del mondo della cooperazione e da Catanzaro, presso la sede regionale della Lega delle Cooperative, si è svolta l'assemblea costitutiva. Alla vigilia del 2018, che sarà l'anno europeo del patrimonio culturale, per la cooperazione è ancora più rilevante cogliere le potenzialità trasversali che possono derivare da progetti in grado di contribuire alla promozione e dalla valorizzazione delle capacità produttive e creative presenti in ambito culturale, come leva indispensabile per la promozione dei territori e per uno sviluppo duraturo e realmente sostenibile, come sottolinea il Presidente Nazionale di Culture Media, Roberto Calari. Le cooperative in questo settore, in questa regione, sono presenti da tempo, lavorano attivamente nel tentativo, nella volontà e nella missione anche di valorizzare i territori, innanzitutto, oltre che per creare un nuovo lavoro professionale in questi ambiti. Ma è indubbio che tutto questo, messo insieme, messo in relazione, anche per l'interconnessione dei mercati e delle opportunità che ci sono, connesso a una cosa che per noi cooperazione è fondamentale, cioè il senso di appartenenza e di identità di una comunità rispetto ai beni, al patrimonio culturale che un territorio esprime. Su questo c'è da fare un grande lavoro, c'è da fare un grande lavoro, una scommessa comune in Calabria come in altre regioni del nord e del sud. L'obiettivo è dunque una nuova stagione di sviluppo che parta dal valore della cultura. Dal doveroso confronto di analisi e proposte pubbliche e della cooperazione, potrebbero nascere piani integrati in grado di valorizzare le identità, la biodiversità, il paesaggio, le filiere agroalimentari, il turismo, l'editoria libraria e giornalistica locale, la produzione audiovisiva e la comunicazione in genere. Quando vediamo i dati generali dei consumi culturali, della forzione culturale, e lo dico anche in particolare in Calabria, dobbiamo preoccuparsi per tutto, non solo per la Calabria, ma per tutta l'Italia, perché in tutta Italia questi dati sono estremamente modesti e bassi rispetto al dato europeo. E vuol dire che abbiamo il patrimonio più importante forse a livello europeo e internazionale, culturale, e non sappiamo ancora insieme valorizzarlo. Credo che questo sia il messaggio che insieme, mentre nasce Culture Media, cerchiamo di dare in modo molto aperto, collaborativo, perché è una scommessa comune. Mettiamoci su questa lunghezza d'onda. La cultura è un investimento, non è un costo. Il lavoro è un lavoro professionale, non è un lavoro del tempo libero, è un lavoro professionale. Il turismo è fondamentale quando si collega a delle idee di sviluppo territoriale condivise. Creiamo insieme i tavoli giusti per creare dei modelli di sviluppo condivisi con la cultura al centro. E questa è la scommessa anche della cooperazione e delle cooperative che tutti i giorni, anche su questo territorio, cercano di dare questo valore al proprio lavoro, alla propria missione. Lega Coop Calabria è l'ultima ad avere costituito Culture Media in Italia, ma non è detto che questo sia in assoluto negativo, come sottolinea la Presidente Angela Robbe, perché si potrà fare tesoro delle esperienze già maturate ed avvalersi di un confronto e di un'analisi che all'interno del mondo cooperativo è costante ed allargato a tutte le realtà del Paese. Siamo gli ultimi a costituire il settore in tutta Italia, ma l'abbiamo voluto costruire con la consapevolezza di tutte le cooperative che oggi entrano a far parte e con la consapevolezza che la cultura, il turismo e la comunicazione non solo sono i settori su cui si punta a livello nazionale, su cui c'è un investimento elevato, ma sono settori che per la Calabria hanno un contenuto importante e hanno potenzialità di sviluppo che direi potrebbero diventare trainanti per il patrimonio che c'è, materiale e immateriale, e anche per la capacità di intersecare l'innovazione, l'industria 4.0, la digitalizzazione e quindi volevamo costruire un settore insieme alle cooperative e una proposta che seguisse le proposte nazionali, ma che contenesse tutte le potenzialità di cui siamo capaci e su cui potremo lavorare. Per lo sbarco di 764 migranti avvenuto a Reggio Calabria il 4 novembre scorso e purtroppo nel corso di quello sbarco vennero portate a terra anche le salme di 8 persone, sono stati arrestati due presunti scafisti, sono entrambi giovanissimi, uno a 19 anni, è senegalese, si chiama Issa Diallo, l'altro è ventunenne, è guineano e si chiama Ibrahim Surba. Sarebbero stati loro appunto a guidare questa nave, anzi un gommone sovraccarico, c'erano oltre 150 persone a bordo e queste persone erano prive di giubbotto di salvataggio. Poi dopo ore di navigazione il gommone è affondato, quindi ha riversato in mare tutte queste persone. Quando sono arrivati i soccorsi e sono trascorse quasi due ore i superstiti, erano molti fortunatamente, e poi c'erano anche purtroppo otto morti, quindi i 150 del gommone erano parte del gruppo di 764 persone che sono arrivate a Reggio il 4 novembre. Stamattina è stata inaugurata la nuova sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro. La sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro si trovava di fianco a Villa Margherita, vicinissima al palazzo fra l'altro del comune Palazzo De Nobili. Adesso praticamente i locali sono quelli della Legione Carabinieri Calabria, che si trova lungo Viale De Filippis, e dentro, adesso si sono già trasferiti alcuni reparti, entro la prima decada di dicembre si trasferiranno anche il nucleo investigativo, la centrale operativa e il reparto anticrimine, che prima erano appunto nella caserma di Piazzale Trieste, dove comunque rimarranno il Comando di Compagnia e la Stazione. Il taglio del nastro oggi è stato affidato, ieri l'abbiamo già vista per la presentazione del libro che ha scritto insieme ai fratelli Nando e Rita sul padre Carlo Alberto, c'era Simona dalla Chiesa. C'era anche il Comandante Generale dell'Arma, Tullio del Sette, il quale ha spiegato come l'inaugurazione di questi spazi rientri nella politica di razionalizzazione, quindi di contenimento delle spese da parte dell'Arma. Si parla di un risparmio annuo di circa 380 mila euro, ma del Sette è intervenuto anche sui programmi che investono le strutture dell'Arma per quanto riguarda la Calabria. Ascoltiamo. Sì, oggi abbiamo inaugurato i nuovi locali del Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro qui in questa caserma. Si tratta di una razionalizzazione che consente di impiegare i carabinieri in una sede più adeguata alle esigenze attuali, anche di mobilità di mezzi e di apparati che ci consente anche un notevole risparmio sul piano economico, 380 mila euro l'anno. Abbiamo presentato però altri progetti di razionalizzazione importanti. Consentitemi di parlare in particolare di due ai quali tengo moltissimo. Uno è quello che riguarda 13, ma arriveremo probabilmente a 14 o più, in Aspromonte. 13 stazioni Aspromontane. Stazioni che o erano già ripiegate in altre perché non c'erano più edifici e da qualche tempo e anche da qualche anno, ovvero saremmo stati costretti a lasciare altre in breve volgere di tempo. Ci siamo resi conto di questo. Abbiamo proposto al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti un programma di interventi che è stato assolutamente subito sposato e finanziato. In ottobre, il 13 ottobre, è stato finalmente registrato dalla Corte dei Conti e quindi il decreto del Ministro del Rio che assegnava le risorse, 15 milioni in tre anni, per la ricostruzione, costruzione o ristrutturazione e adeguamento sismico di una serie di queste strutture e quindi partiremo con Seminara già nelle prossime settimane per realizzarne 5 entro il 2018 e le rimanenti nei due anni successivi. L'altro programma, mi scusi, a cui tengo moltissimo e atteniamo moltissimo è quello di razionalizzazione derivante dal decreto legislativo 177 dal 2016 e cioè quello che ha previsto l'accorpamento della gran parte del personale delle funzioni dell'ex Corpo Forestale dello Stato nei Carabinieri. Uno degli obiettivi della riforma era quello del risparmio per locazioni e per canoni energetici per la conduzione di una serie di edifici qui in Calabria, nell'ambito di questo programma nazionale che ho già avviato da qualche settimana e saranno 20 le strutture interessate. Si è trattato di un seminario sulle regole del gioco. Il gioco è lo spettacolo e lo spettacolo ha le sue regole dal punto di vista etico ma ha delle sue regole anche proprio formali che vanno rispettate perché tutto sia in regola e l'attenzione che si ha su questo settore è sempre molto alta, crescente diciamo in tempi in cui da un lato la difesa del diritto d'autore si è fatta un po' più lasca a causa di internet, dall'altro c'è la necessità appunto di tutelare l'opera originale degli artisti. Se ne è discusso alla Mezzia Terme e di questo seminario si è incaricato il network Calabria-Sona che c'è molto vicino e caro. Si è svolto nei giorni scorsi alla Mezzia Terme il primo di una serie di momenti di formazione e formazione organizzati da Calabria-Sona per gli artisti e gli operatori culturali calabresi. Seminari di formazione e regole per un corretto intrattenimento, obblighi, diritti e doveri dei professionisti dello spettacolo, momenti di crescita e di confronto con professionisti e addetti ai lavori del panorama italiano. E' questa una delle nuove mission di Calabria-Sona. Si è partiti da uno degli argomenti fondamentali per l'accrescimento professionale del settore. Esibirsi in regola, curato da Giuliano Biasin, vicepresidente e cofondatore di Esibirsi, molti servizi per artisti del mondo dello spettacolo con sede a Pordenone. Un incontro che ha messo in luce alcuni fattori fondamentali della parte più burocratica di questo mondo, partendo dal concetto di lavoratore dello spettacolo e agibilità IMSS per affermare che chi si esibisce è un lavoratore a tutti gli effetti e quindi soggetto agli obblighi e alle tutele derivanti. Durante l'incontro, Biasin ha mostrato numerosi esempi pratici, entrando analiticamente nella descrizione di fatture, pagamenti e ancora possibili ammende derivanti da possibili controlli in ogni contesto che promuove musica dal vivo. Se vogliamo fare arte e cultura in modo professionale, il raggiungimento di questo obiettivo non può non passare dallo studio e dall'approfondimento di queste tematiche, ha aggiunto Giuseppe Marasco, coordinatore di Calabria-Sona. Indicando una nuova linea di formazione che sarà necessaria in futuro per il network che rappresenta l'arte e la musica come lavoro e sviluppo, cultura e arte intese come vera e propria possibilità di occupazione e formare chi rappresenta questo settore nella nostra regione è fondamentale ed ecco perché l'evento è stato aperto a tutti e reso gratuito. C'era molta Calabria questa mattina in Piazza San Pietro, alla fine non nell'Aula Paolo VI ma in Piazza San Pietro durante l'udienza generale del mercoledì, ne vediamo alcune immagini. C'erano infatti 800 persone, ripeto molte provenienti dalla Calabria, tra volontari, genitori e bambini affetti da diabete di tipo 1 poiché l'evento è stato coordinato dal Presidente dell'Associazione Giovani Diabetici di Locri e dal Vescovo di Locri e Gerace, Monsignor Francesco Liva, che si è personalmente attivato presso la Santa Sede. Proprio oggi, 15 novembre, è la giornata mondiale contro il diabete e vi ricordo che già da due giorni fino al lunedì prossimo, 20 novembre, recandovi in una delle 7600 farmacie italiane che aderiscono a questa iniziativa che è di Federpharma e della Società Italiana di Diabetologia e dell'Associazione dei Medici Diabetologi, è possibile effettuare uno screening gratuito, l'autoanalisi della glicemia. In Piazza San Pietro c'era un coro e un'orchestra di oltre 150 elementi, diretta dal maestro calabrese Roberto Caridi, partiti da Reggio Calabria, che hanno partecipato all'udienza del Pontefice. È stata un'esperienza unica, ha detto Caridi, c'eravamo preparati a questo appuntamento. Fra l'altro con la banda di Reggio c'erano anche il coro degli adulti e si sono esibiti i solisti Tina Errigo, Rossana Camera ed il tenore Gianluca Marino, eseguendo brani sacri, alcuni dei quali composti dallo stesso maestro Caridi. E allora noi vi mostriamo ancora una volta lo spot che Federpharma ha predisposto, il testimonial e il noto attore romano di origini calabresi anche lui, regino era il papà, Pino Insegno sulla campagna di screening gratuito per l'accertamento, vi auguriamo di no, ma comunque se sentite di farlo effettuatelo del diabete. La sua glicemia è di 89 e il test appena effettuato non ha rilevato alcun fattore di rischio. Bene, un milione e mezzo di italiani non sa di avere il diabete, riconoscerlo in tempo è fondamentale per controllare la malattia e condurre una vita normale. Diagnosticare il diabete è semplice, dal 14 al 20 novembre vieni in farmacia per effettuare un controllo gratuito, perché con la salute non si scherza. Dal 14 al 20 novembre vieni in farmacia per il dia dei, trova la farmacia su www.federpharma.it Appunto sul sito di Federpharma potete trovare la farmacia a voi più vicina. Per questa edizione del telegiornale è tutto, torniamo alle 19.20 e grazie per averci seguito. Grazie a tutti.